Il figlio maggiore poi è andato al banchetto, questa è la sua domanda. Io direi così, allora bisogna, come ho tentato di spiegare, leggere un testo nel suo contesto, leggere quindi la parabola del figlio al prodigo nel contesto in cui l'ha raccontata Gesù che il contesto ci viene attestato, testimoniato dall'Evangelista Luca. Quindi il contesto è Gesù che parla di fronte a un pubblico costituito in gran parte da peccatori, ma nel pubblico ci sono anche degli scribe, dei farisei che mormorano, mormorano di lui per i suoi atteggiamenti benevoli nei confronti dei peccatori. Quindi mormorano in fondo contro la sua idea di Dio, un Dio incondizionatamente buono, un papà sempre soltanto buono. Questo è il contesto all'interno del quale leggere la parabola. La parabola rimane effettivamente aperta, ma non solo nei confronti degli scribe dei farisei, rappresentati dal fratello maggiore, ma anche nei confronti dei peccatori, rappresentati dal figlio minore della parabola. Ma perché il meccanismo di tante parabole, della maggior parte delle parabole, è esattamente questo, coinvolgere la persona, tirarla dentro, davanti agli altri per di più, in modo tale che la persona prenda posizione. Allora Gesù conclude questa parabola lasciando aperte le due situazioni, quasi facendo due domande ai suoi interlocutori, ai peccatori. Perché mi stai seguendo? Perché stai seguendo l'immagine del mio Dio che ti sto rivelando? Per convenienza? Perché alla casa del padre della parabola c'è cibo per tutti? Ma in fondo sei ancora convinto che non hai una dignità filiale, ormai sei un peccatore, vuoi essere trattato da servo e quindi vedi Dio come un padrone? Qual è il tuo volto di Dio, peccatore? Perché mi stai seguendo? Questa è la domanda che Gesù fa attraverso la figura del figlio minore ai peccatori che lo stanno ascoltando. Ma gli iscrivi ai farisei fa l'altra domanda. Non è che con la vostra stizza, con il vostro disappunto, le vostre mormorazioni, vi state comportando precisamente come il fratello maggiore, che non solo disprezza il fratello minore, non solo voi disprezzate i peccatori, ma in fondo siete in grave errore nei confronti di Dio. Allora, in fondo voi pensate che con le vostre opere buone, con la vostra osservanza, e poi Gesù li richiamava formale, cioè senza cuore, della legge di Mosè, voi siete capaci di salvarvi, ma non vi state affidando davvero a un padre, state temendo i suoi castighi. Per questo osservate la legge di Mosè, ed è precisamente il vostro orgoglio che svuota la legge. La legge di per sé è buona, ma se voi l'osservate con questo orgoglio di potervi salvare da soli, di fronte a Dio, interpretato come un padre padrone, a cui sacrificare la libertà per avere una ricompensa, o nell'aldiqua o nell'aldilà, voi vi state sbagliando di grosso, fate l'ultimo passo della conversione, affidatevi finalmente a Dio, non limitatevi ad osservare la legge che pure Dio ha ispirato. Per cui la domanda effettivamente rimane aperta, sia nei confronti dei peccatori, sia nei confronti degli scribe dei farisei, e direi questa seconda tocca maggiormente noi gente di chiesa. Perché, come dicevo nel commento della parabola, quante volte, magari subendo dei torti, diciamo precisamente ci deve essere un Dio giustiziere, ci deve essere un Dio che fa tornare i conti nella storia. Non è giusto che io abbia sprecato la mia vita con tanti sacrifici, con tanta, appunto, osservanza della legge di Mosè, dei precetti della chiesa, e poi venga trattato come quello là che se la gode. Ecco, questo atteggiamento viene messo allo scoperto da Gesù. Se pensi così, stai immaginando un Dio che non è il vero Dio. Il vero Dio è colui che ti sta invitando al banchetto. E allora io spero, ecco la risposta, io spero che anche il figlio maggiore sia andato a quel banchetto, che si sia riconciliato col figlio minore, ma che tutte e due, questa è la speranza più grande, abbiano scoperto Dio attraverso la bontà di Dio, perché è la bontà che ci spinge a conversione, non altro. Grazie della domanda.